che si rivolgesse proprio a qualcuno della mia famiglia ero così felice quando provava a cantare questa canzone ma guarda come siamo importanti con la chitarra proprio si, prendi la chitarra ti prestiamo la mia chitarra Barbarossa fa uso del mezzo radiofonico per scopi personale faccio promozione alla mia famiglia tanto c'è il nostro pubblico che qua oh tutto questo ovviamente non è previsto quindi un applauso del pubblico non pagante se lo vuoi abbassare era proprio una c e via via grazie grazie Filippo senti Filippo mi ha sentito è un regalo inaspettato quello che mi hai fatto oggi ti ringrazio e adesso vorrei ascoltare però dalla regia le cose belle ma rimani in postazione live perché se ce la facciamo con i tempi, con il minutaggio da diretta sul finale come De Niro ci regali un pezzettino anche dal vivo della tua canzone le cose belle Filippo Graziani qui a Radio Professor Giacomo e chi lo dice che mi va a cantare e che a trent'anni devo naturare svegliati fratello se non sai capire che a voi a volte anche le cose belle fanno male 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 a Sanremo qui davanti all'Arison dal vivo il day after del festival le cose belle anche il titolo del suo album come 1969 la canzone di De Niro